Oggi qui a Vezzano si tiene il convegno Comunità Amiche della Demenza. Perché? Perché è importante che tutta la comunità trentina, quindi i vari soggetti interessati delle nostre comunità, vengano messi a conoscenza di che cosa vuol dire vivere con una persona con demenza senile, ma soprattutto cosa vuol dire per una persona che soffre di demenza vivere la quotidianità. È importante che sul nostro territorio tutti i soggetti facciano rete, vengano quindi formati anche grazie a questo convegno e quindi possano affrontare al meglio questo tema che purtroppo è sempre più presente nella società trentina e non solo. È un convegno fortemente voluto dall'assessorato, dal Dipartimento Salute e Disabilità e Politiche Sociali, ma anche e soprattutto dal tavolo per il piano per le demenze, il tavolo provinciale. È un convegno che vede invitati non solo i soggetti sanitari o impegnati nell'ambito del sociale, ma anche altri soggetti del territorio, della comunità, proprio perché è importante che la comunità trentina, tutti i soggetti interessati, facciano rete e portino avanti i temi, vengano a conoscenza dei temi della demenza.